Buongiorno Presidente, un'onore. Mi piace ascoltarmi a tutti. Grazie. Troverei gli auguri. Ho veramente tanta passione. C'è un riconoscimento anche nei confronti non solo dei nostri imprenditori che sono sempre pronti ma di chi ci lavora, perché hanno veramente tanta passione, mettono tanto impegno e dunque sicuramente la sua visita da noi ma soprattutto anche a loro è una grandissima forma. E' un nuovo lavoro, è molto più grande. Sì, sì, sì. Qui proprio è venuto, avrà visto dove il lavoro c'è. Qui abbiamo un'operatrice. Buongiorno. Volevo ringraziarla in nome di tutti i miei colleghi. Per noi è un onore, è un privilegio poter dimostrare quello che è il nostro lavoro. Io mi occupo di montaggio e collaudo di servocomandi idraulici. Questo è un pezzo finito. Verranno poi installato in cabine e verranno utilizzati su macchine di movimento terra, di questo qui e americcole. Complimenti il vostro lavoro. Grazie mille. Grazie. Grazie a lei. Grazie mille. Grazie. Per esempio, prima ho parlato di ponca ingranati. Questo è il corpo di partenza e questo è il prodotto finito. Cioè, il corpo finito, dopo ci mancano gli accessori per far funzionare e fare il posto per accogliere. Buongiorno. 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 Grazie. Buongiorno. 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 È un onore, veramente, grazie, auguri, grazie, auguri, grazie, grazie, grazie. Mi permetto di donare questo aceto passamico di 70 anni perché io sono figlio di contadini e l'ho trattata con mio padre fino a 20 anni, poi nell'80 ho aperto l'elettrico 80, 5 amici, oggi siamo in 1200 e in questa chiavetta USB c'è la storia della nostra azienda e i nostri sogni futuri. La ringrazio molto, grazie, complimenti. E valorizziamo la montagna come nostra missione.